buongiorno oggi è martedì 26 e sono andata a fare spesa al paywex visto le belle offerte che c'erano a me interessava prendere il latte e la passata di pomodoro allora vi faccio vedere quello che ho preso ho preso il latte arborea questo è buonissimo e veniva 99 centesimi ne vedete uno ma io ne ho presi otto litri poi ho preso 12 bottiglie di questa passata che veniva 0 69 ne vedete sempre una appunto ne ho prese 12 così almeno per un bel pezzo ce l'ho questa è buona perché della valfrutta al vapore l'ho presa altre volte quindi di solito prendo la mutti quando trovo in offerta ma se no anche questa è buonissima mi trovo bene era andata soprattutto per il latte e la passata poi ho visto il tonno questo qui mare blu al naturale 2 euro e 29 però ogni scatoletta è da 60 grammi sono tre però io quando faccio che ne so i spaghetti con sugo e tonno metto tre scatolette perché essendo tanti se ne metto una o due non ci facciamo niente almeno una confezione la metto quindi l'ho preso 32 e 3 sempre al naturale poi ho preso due ballelata anche queste in offerta 2 euro e 79 e sono tre da 125 grammi la ballelata è buona ne ho preso solo due ci sono ne prendo tre ma oggi le ho prese due poi un prodotto a breve scadenza è questo prosciutto cotto che scade il 30 settembre infatti due vaschette un euro e 99 e queste sono mi sembra da 100 grammi l'una non l'ho scritto da nessuna parte però penso di sì e dato che oggi è 26 e scadono il 30 io le faccio domani con le piadine faccio prosciutto e mozzarella ci facciamo le piadine poi ho preso lo stracchino anche questo è un'offerta 2 euro e 19 ne ho prese due confezioni questo è della granarolo buono 30 per cento e meno di sale 50 per cento e meno di grassi non lo so se sarà vero comunque l'ho preso è buono ci troviamo bene con questo poi se sta in offerta tanto meglio poi ho preso questa pasta armando due confezioni che sarebbero le mezze penne solo due confezioni perché di pasta ancora ne ho quindi ho preso due di queste e quattro di De Cecco i miei asmati spaghetti a me piacciono molto i spaghetti io come pasta ecco la pasta corta non è che mi piace tanto io amo i spaghetti però qui c'è stato eh forse un mio sbaglio ho preso quattro confezioni di spaghetti quattro io a scaffale avevo visto 0,99 a scaffale che poi un pacco era pure aperto come ne sono accorta meno male non sono caduti quindi io ho visto 0,99 invece sullo scontrino vado a vedere sullo scontrino ed è 1,59 se non sbaglio sì 1,59 quindi ho detto cavolo ho preso in offerta invece non era l'offerta e mi sembra siccome che questi sono spaghettoni mi sembra che l'offerta era solo sui spaghetti quindi ho sbagliato io pazienza 1,60 vabbè diciamo che questa volta ho sbagliato io insomma ecco guardare bene le offerte poi ho preso questi zero più della balocco un euro e 49 queste qui ho presi perché devo dare sempre ai miei figli che sono confezioni da sei biscotti ecco sono sei confezioni dentro se ne saranno forse quattro in ogni pacchetto non lo so e ora vedo un attimo però penso che ce ne saranno quattro le apro un attimo per vedere sì sono quattro biscottini in una confezione carini sono sei confezioni e ne ho presi due oddio mi cade sempre qualcosa e ne ho presi due confezioni almeno io li do ai ragazzi quando vanno via da casa se ne portano una me lo zaino poi ho preso questi tocchetti che sono sempre in confezioni e sono sette sette confezioni questi venivano 99 centesimi sono fatti a confezioni anche questi se li portano quando escono insomma o vanno all'università chi va al lavoro se li porta insomma poi ho preso questi casarecci guissini tipo sempre in confezioni questi sono al mais al mais un euro e 79 mi sembra che sono anche questi o sei o sette confezioni poi ho preso questi perché erano molto carini i spaccativi corti un euro e 29 sono sempre penso ecco gristini li chiamano spaccatini però sono carini molto carini questo l'ho presi siccome che questa settimana il pane non l'ho preso per niente allora ho preso questi che così a pranzo a cena ne metto due via insomma ci rimangiamo negare sempre qualcosa come dicevo si vede che qualcuno mi sta pensando siamo tanti quindi qualcuno mi penserà no so queste qui invece sono della skipper ace con gusto ace un euro e 19 questi sono buoni e per finire fortunatamente i biscotti non mi sono caduti dalle mani un euro e 99 pasta e frolle della balocco io con questi mi trovo bene poi questi sono quasi sempre a un euro e 99 oggi trovare pure 700 grammi di biscotti a un euro e 99 se non si trova in offerta non è facile fortunatamente questi non sono in offerta però il prezzo insomma è buono è buono anche perché tempo io adesso per fare i biscotti proprio non ce l'ho ho speso in totale 53 euro e 60 centesimi diciamo che mi è andata bene perché ho trovato parecchia roba in offerta ma soprattutto mi serviva il latte che sono rimasta con un litro e non ci faccio niente e anche la passata di pomodoro quindi adesso insomma penso che per tutta la settimana fino a domenica dovrei stare a posto così bene questo video finisce qui io sono soddisfatta della mia spesa se avete un paywex vicino casa vi occorre qualcosa adesso ci sono belle offerte e niente io vi saluto vi ringrazio del tempo che mi dedicati a vedere questo video e niente vi auguro una buona giornata e una buona settimana ciao a tutti